Sono qua perché io sono 35 anni che lavoro in Fiat e sono da più di due anni e mezzo che sono in cassa integrazione. Prima si andava avanti con 1300 euro al mese, adesso con 800, 850 euro non se ne può più e quindi sono qua per difendere il diritto del lavoro e sperando che la Fiat rimane qua a Torino perché è nell'interesse di tutti. Sono qua perché in pratica questa situazione non va bene. Ho visto marcia pacifica per Mirafiori, Fiat. Questa marcia è dettata da un senso di amarezza che provo nei confronti di Marchionne al quale avevo dato la mia fiducia. Io anche essendo pensionato ci tengo molto per queste cose qua, specialmente per i giovani che non si muove un pochettino questo movimento, così il lavoro già è calante, già automaticamente non facciamo niente, diventa ancora più calante, quindi bisogna dare una bella cosa.